Oh ma che bella novità tra i nostri usati, Kia Seed, vediamola subito. Questo è il suo taglio laterale, deve ancora passare dalla carrozzeria, ma una volta fatta tornerà nel suo massimo splendore, vediamola dentro. Poche parole, Kia Seed. 1.16 cilindrata con 110 cavalli, 5 porti con allestimento Active, infatti sono fighissimi questi sedili. Ci sono anche i sensori di parcheggio, lo stereo con la possibilità di connettere il proprio dispositivo, non c'è il touch purtroppo. C'è la presa aux, la presa usb, diversi bani porta oggetti, un bracciolo porta oggetti spaziosissimo. Questa con motore diesel, cambio manuale, ci sono i comandi al volante comodissimi, ma sono tantissimi. Ci sono giustamente i comandi vocali. In realtà si tratta appunto di un usato, ma in perfette condizioni, perché d'altronde ha solo 22.000 km, davvero pochi e poi state matricolata solo due anni fa. Ora, se siete alla ricerca di un'ottima occasione, questa è sicuramente quella che fa per voi. Scopritela subito andando su ratiauto.com, il link è in descrizione. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!